The dog that is wearing a red collar lives down the streets. All the computers that are on the floor will be donated to charity. Carl said that the flu which he had was one of the worst ever. Anyone who does not study will have difficulty passing the exam. Anyone who likes to hike outdoors will love Switzerland. Chiunque ami fare escursioni all'aperto adorerà la Svizzera. Abbiamo comprato una casa che si trova vicino ai miei suoceri l'anno scorso. L'aeroplano che era stato appena lavato è finalmente partito con tre ore di ritardo. L'auto che ha ricevuto per il suo compleanno ha bisogno di qualche riparazione. Eravamo in Messico per il giorno dei morti che è una grossa festività. L'esistenzialismo è una idea filosofica che non ho mai capito bene. Molte persone vanno nello stesso pub in cui andava Darwin a Londra. L'apprendimento online, che è a buon mercato, ora è più popolare che mai. Al gatto che ho trovato sulla strada piace stare dentro. Ci piace fare escursioni e andare in bicicletta sulle montagne. Ho tre cani, due gatti e sto cercando altri animali domestici da adottare. Prendi la mia giacca e appendila nell'armadio, per favore. Oggi compreremo un nuovo divano e un tavolino da caffè. Lei è piaciuto il film ed il libro. Le è piaciuto il film ed il libro. Il ragazzo ha bisogno di un taglio di capelli e di vestiti nuovi. mia mamma ed io siamo andati a fare shopping e ci siamo goduti un pranzo delizioso. Questa casa ha una piscina, l'idromassaggio e una deliziosa vista sulla valle. Puoi avere maccheroni e formaggio oppure un hot dog. Mi piacciono i pomodori o gli avocado nella mia insalata. Pensi che le piacerà il film oppure il libro? Ci piacerebbe una casa con una piscina oppure una bella vista. È una ragazza simpatica ma ha così tanti tatuaggi. Mi piacciono i cani ma perdono pelo ovunque. Il film era ben scritto ma troppo lungo. Il film era ben scritto ma troppo lungo. Questa stanza d'hotel è molto piccola ma è conveniente. Volevo vedere la Tour Eiffel ma non avevamo tempo. L'auto si è comportata bene ma viaggiarci non era comodo. Il film era ben scritto ma troppo lungo. 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 Il film era ben scritto ma troppo lungo.